La bioraffineria Eni di Venezia comunica che nei prossimi giorni, l'avviso di domenica scorsa, domenica 25, sarà possibile l'attivazione del sistema di torcia durante le fasi di riassetto degli impianti a seguito di un'anomalia del sistema di regolazione del compressore di ricircolo delle unità di reforming avvenuta nel pomeriggio di domenica 25 novembre. Quindi come è successo altre volte potremmo vedere le fiamme appunto del Marghera anche da grande distanza, si vedono anche da Chioggia oppure da Peristrina e comunque a volte sono veramente spettacolari ma facciamo i debiti scongiuri, non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Grazie per la visione!